Musica Direttore, tutto è andato secondo programma? Direi proprio di sì, nel senso che non potevamo aspettarci una risposta migliore. Se c'è stato uno fuori programma è stata questa incredibile, enorme partecipazione dei cittadini che hanno veramente invaso tutta la città fin dal primo mattino. Devo dire che io mi sarei aspettato un'adesione più graduale, che il momento soprattutto della Cava del Sole fosse un momento preparatorio, invece fin da quel momento la città proprio ha invaso tutti gli spazi, devo dire con grande abilità il Comune ha saputo cogliere l'occasione di far vedere che la mobilità pubblica è fondamentale per questa città, quindi ringrazio proprio il Sindaco, ringrazio l'assessore Montemurro, ringrazio tutti i tecnici a partire da Franco dall'Acqua che hanno coordinato proprio questo tipo di attività perché si è visto che in poco tempo tutti gli spazi della città sono raggiungibili e possano essere raggiungibili appunto con mezzi pubblici. E poi c'è stato questo incredibile susseguirsi di appuntamenti a partire dello spazio dei quartieri, l'arrivo di Matera Cielo Stellato fino proprio alla grande parata finale, quindi direi che non poteva andare meglio.